ok 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 ho visto che guardate più spesso i video con i titoli invece che i video del giorno va bene no no tranquillo non me ne faccio un cazzo pezzo di merda che non sei altro pezzo di merda che non sei altro quindi tu prendi per scontato che se il video del giorno è noioso e che se invece c'è un altro titolo non è noioso è questo che stai dicendo? è questo? stai dicendo che c'ho pochi contenuti? figlio di puttana? pezzo di merda che non sei altro pezzo di merda te lo faccio vedere io un video con il titolo stronzo così impari grazie a tutti